Un'area verde di Apricena intitolata Giovanna Frino, vittima di femminicidio. La città di Apricena e la comunità tutta sono schierate contro ogni tipo di violenza e di abuso sulle donne ed è un segno di ciò il fatto che la nostra cittadinanza, sottolinea il sindaco Antonio Potenza, si è riscoperta nel dolore ancora più unita dopo i tragici fatti che lo scorso dicembre hanno interessato Giovanna Frino, una donna ed una madre esemplare o una vittima di questa emergenza. L'8 marzo alle 11.30 in via Saragat, angolo via Togliatti, ci sarà l'intitolazione insieme alle scuole e a tutti i presidi educativi del territorio di un'area verde alla memoria di Giovanna Frino e di tutte le vittime di femminicidio. A Giovanna e a tutte le donne vittime di violenza saranno dedicate una panchina degli alberi simbolo di pace. Sarà quello un luogo in cui chiunque passando potrà riflettere e ricordare la tragedia. Il 22 dicembre scorso in via Saragat, nella villetta familiare, la donna fu uccisa con alcuni colpi di pistole esplosi dal marito 56enne, ex guardia giurata. In quell'appartamento la coppia, sposata da circa 20 anni, viveva. Al momento del delitto in una stanza dell'abitazione riposava perché influenzata una delle tre figlie della coppia.